Musica Archiviato il reddito di cittadinanza, al suo posto entrerà in vigore l'assegno di inclusione che sarà riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno alla prova dei mezzi sulla base dell'Isee alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa